Sanità, la regione esce dal commissariamento, lo ha preannunciato l'assessore Paolucci. L'equalificazione dei quartieri di Celano, gli interventi sono stati programmati dall'amministrazione Santilli. Riattivato il traffico con il doppio senso via Roma, pochi disagi nel primo giorno del cambiamento. Il cammino della biodiversità è iniziato oggi da Madiano De Marsi. Cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Nella mattinata di ieri, gli operatori del commissariato di pubblica sicurezza di Avezzano, con l'ausilio di due pattuglie del reparto prevenzione crimine di Pescara, hanno eseguito una serie di controlli volti al contrasto dei crimini predatori e all'implementazione della vigilanza sul territorio marsicano. Il personale della Polizia di Stato si è concentrato sui principali luoghi di transito, ossia la stazione ferroviaria, il terminal degli autobus e le più importanti articolazioni biarie. Notevole attenzione è stata posta alla verifica di individui o soggetti sospetti. In totale sono stati controllati 21 veicoli in maniera tradizionale, 312 col sistema Mercurio e 34 persone mentre un uomo è stato contravvenzionato in base al codice della strada poiché colto la guida mentre faceva uso di un telefono cellulare. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, rende noto che venerdì 22 luglio alle ore 11 nell'ufficio dello stesso primo cittadino a Palazzo Fibioni si trà una riunione del comitato ristretto dei sindaci dell'ASR a Avezzano sul Mona L'Aquila. All'incontro che vede all'ordine del giorno la discussione su vicenda neurochirurgia dell'ASR a Avezzano L'Aquila sul Mona problematica riguardante la riorganizzazione della rete ospedaliera. Ospedali di comunità saranno presenti i sindaci dei comuni di Avezzano, Sul Mona, Castelli Sangro e Bresciano. l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, il direttore generale dell'ASLO 1 Rinaldo Tordera e il direttore dell'agenzia sanitaria regionale Alfonso Mascitelli. La corte d'appello di Campobasso ha assolto perché il fatto non costituisce reato l'ex primario di chirurgia dell'ospedale di Avezzano, Dorito Scipioni, difeso dagli avvocati Gianfranco Restaino del Foro di Avezzano e Demetrio Rivellino del Foro di Campobasso. E il dottor Luigi Tibaldi, difeso invece dagli avvocati Gian Tederico Ceciacanese e Massimo Romano del Foro di Campobasso, dell'accusa di omicidio colposo in concorso, confermando la sentenza di primo grado di assoluzione. I fatti riferiscono al decesso del signor Eulo Serafini, avvenuto nell'anno 2009 all'ospedale di Avezzano a seguito di un intervento chirurgico. La corte ha accolto le tesi degli avvocati dei consulenti, non aderendo quindi alla perizia disposta dalla stessa corte. In sala operatoria, precedenza ai malati oncologici da operare entro un massimo di 30 giorni e a seguire spazio agli altri pazienti, sulla base della gravità, della prognosi, del dolore intenso e del deficit funzionale. L'Asl Avezzano sul Mone d'Aquila, attraverso un apposito regolamento nell'ambito della normativa della Regione, definisce e riscrive le priorità degli interventi chirurgici, delle lezioni, quindi non dettati dalle urgenze, per gestire al medio le liste di attesa, garantire le operazioni nei tempi fissati dalle disposizioni normative, assicurare un costante monitoraggio degli interventi, coinvolgere i medici di famiglia, eliminare passaggio a vuoto. Insomma, con la dettagliata descrizione dei percorsi, l'Asl cuce su misura, a beneficio del paziente, tempi, modalità e tipi di interventi chirurgici. Nuove procedure che introducono una lista di attesa preoperatoria, in cui si viene inserita al momento della visita dello specialista, oltre a un registro unico di prenotazione dal carattere flessibile. Un sistema che consentirà, se necessario, di anticipare un'operazione rispetto alla data già stabilita o inserire in corso d'opera un nuovo paziente nella lista d'attesa degli interventi, causa il sopravvenuto peggioramento delle condizioni di salute. Si tratta quindi di una carta della chirurgia programmata all'interno degli ospedali dell'Asl della provincia di L'Aquila, aperta e consultabile anche dai medici di base, che potranno così inserersi nel circuito di cui fanno parte specialisti chirurghi ospedalieri. Esaurita la prima fase, che si è conclusa nei giorni scorsi, proprio con l'elaborazione del minuzioso regolamento, l'Asl metterà a mano alla seconda e conclusiva parte del progetto, vale a dire la messa a punto del sistema informatico, peraltro già presente nelle sue articolazioni di base, che dovrà mettere in rete e far interagire in tempo reali reparti, dipartimento chirurgico e materno-infantile, ma anche direzioni sanitarie, specialisti, sali operatorie, medici di base. Questo processo di informatizzazione, come da programma, prenderà il via subito dopo l'estate e verrà gradualmente messo a regime nel giro di alcuni mesi. Eri siamo in tema di sanità, in quanto la Regione Abruzzo è prossima all'uscita dal commissariamento. A riguardo un nostro servizio. Vediamo. Un primo sì del Ministero della Salute all'uscita del commissariamento della sanità abruzzese, dettato dall'esame delle prime proiezioni che dimostrano la crescita sul livello di assistenza, la prevenzione e la rete di emergenza-urgenza. Così l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci ha preannunciato oggi, in conferenza stampa, la prossima fine del regime di commissariamento della sanità abruzzese a conclusione di un percorso che ha visto la Regione Abruzzo adempiere a tutti i punti riguardanti il mandato commissariale. Per il secondo anno consecutivo, e migliorando di molto quello che era accaduto nello scorso anno, ha detto Paolucci, abbiamo conseguito la piena adempienza sui livelli essenziali di assistenza perché abbiamo investito sulla prevenzione, sullo screening ed anche sulla rete di emergenza-urgenza che per la prima volta ha ricevuto un importante riconoscimento poiché siamo riusciti a ridurre il tempo di risposta per allarme target per i codici rossi. Un passaggio molto importante per la salute dei cittadini. La crescita sugli obiettivi salute e la sostenibilità del sistema ha consentito di esaurire tutti i punti che erano stati indicati nel mandato commissariale. Paolucci ha spiegato che anche quest'anno è stato registrato l'equilibrio economico che anche se è stato raggiunto con alcune sopravvivenze straordinarie attive ha in sé tutte le coperture necessarie per procedere anche ad un ristringimento delle risorse nazionali. Raggiungiamo un traguardo che dovrebbe inorgogliere tutta la comunità degli abruzzesi essendo la nostra la prima regione d'Italia ad aver concluso positivamente l'iter di riordio dell'intera rete ospedaliera. Nei prossimi giorni la giunta regionale metterà all'ordine del giorno un provvedimento che faccia accedere al percorso d'uscita con il trasferimento dei poteri. Successivamente la delibera passerà al vaglio della conferenza Stato-Regione e subito dopo si sottoporrà al riconoscimento del Consiglio dei Ministri. Ascoltiamo comunque a riguardo cosa ha dichiarato lo stesso Assessore Silvio Paolucci. Le valutazioni sono state tutte positive, il percorso si è concluso, gli adempimenti previsti alla delibera commissariale sono esauriti. Esauriti in modo positivo, la Regione ha il sesto anno di pareggio di bilancio e quindi di sostenibilità del proprio sistema sanitario regionale allo stesso tempo per il secondo anno consecutivo e migliorando anche di molto. Quello precedente abbiamo la piena adempienza sui livelli essenziali di assistenza ma abbiamo fatto passi da gigante sulla rete di emergenza urgenza e la prevenzione. Due grandi risultati che hanno messo al sicuro tante vite umane in Abruzzo. Quali saranno adesso i successivi ulteriori passi? Adesso ci sarà finalmente, dopo tanti anni, una delibera di giunta regionale che ratificherà il decreto 55, quello del piano di riqualificazione e sulla scorta di questa delibera si motiverà e soprattutto si cronoprogrammerà il passaggio dei poteri da una gestione straordinaria e ordinaria. La stessa delibera poi passerà al vaglio della conferenza Stato-Regioni e subito dopo il Consiglio dei Ministri. Come anticipato da oggi ad Avezzano è stato riattivato il traffico veicolare con il doppio senso di marcia in Via Roma nel tratto da Via Montevelino a Via Torlonia. La decisione era stata pronunciata con largo anticipo dall'amministrazione comunale. In questo modo il famoso anello a senso unico tra Via 20 Settembre, Via Montello, Via Montevelino e Via Roma istituito dall'amministrazione Floris è stato definitivamente annullato tornando al doppio senso di marcia in tutte e quattro le arterie cittadine. L'attivazione non ha comportato disagi evidenti anche perché negli incroci più pericolosi il traffico è stato regolato da pattuglie della Polizia Locale. Sul ritorno al doppio senso di marcia in Via Roma ma anche su altri delicati problemi cittadini abbiamo raccolto le impressioni del primo cittadino Giovanni Di Pangrazio. Sentiamo. Allora il traffico da Avezzano si torna all'antico. Sindaco, qualcuno dice che lei sta mantenendo le promesse elettorali. E' così o ci sono poi problemi pratici per quanto riguarda il ritorno al doppio senso in Via Roma? Innanzitutto io sono uno di quelli che mantengo sempre le parole e le promesse fatte agli elettori ma comunque fatte a chiunque abbia avuto nella mia vita contatti con me. Essendo una persona seria e avendo messo nel programma di mandato la rivisitazione del quadrilatero che era veramente un circuito chiuso e chiudeva appunto il centro della città con questo traffico assurdo e veloce abbiamo ripristinato piano piano tutto ciò che potevamo ripristinare. Siamo partiti da Via Montevelino e i residenti sono stati felicissimi. Abbiamo fatto Via Montello, una strada larghissima che era a senso unico, oggi è a doppio senso per la gioia di tutti i residenti. Abbiamo fatto Via 20 Settembre che all'inizio forse perché creava qualche disagio c'erano dei curiosi e quindi intasavano un po' Via 20 Settembre oggi scorre tranquillamente, normale che un piccolo in alcune punte della giornata forse c'è un leggero traffico ma viva Dio Avezzano è una città, non è un paesello e oggi abbiamo messo mani a Via Roma. La chiusura di Via Roma che chiaramente isola e isolava tutta la zona di Pucetta, tutta la zona di Via Roma e quartieri limitrofi consentendo a chiunque volesse raggiungere da Piazza Torlonia, da Via Napoli quel tratto là o quelle abitazioni là doveva fare il giro di tutta la città. Mi sembra assolutamente non giustificabile. Quindi noi siamo per far vivere la città, gli avezzanesi e i marsicani. Siamo perché seppure ci possa essere un po' di traffico ma il traffico può essere salutare alla vita della città. Avezzano è una delle città con meno traffico. Se si va ad altre parti fai file chilometri, ad Avezzano forse fai file di 200 metri, 100 metri. Quindi se vogliamo vivere una città importante, una città che sfida le altre città di Abruzzo, dobbiamo sapere che non possiamo chiuderci a Riccio o fare degli anelli che nemmeno a Roma si trovano questi anelli con il raccordo anulare. Ma una città di Roma può essere ammissibile un raccordo anulare. Ad Avezzano era solamente un'invenzione di qualche personaggio che forse vedeva i film di fantascienza e hanno fatto questo quadrilato. La mia era una battuta per quanto si riferiva alla promessa in campagna elettorale ma credo che poi ci siano motivazioni ben più serie alla base del... Ma le motivazioni sono queste. Ogni tanto mi viene poi da pensare qualche ex alleato e traditore della città che prima aderisce al programma di mandato del sindaco, prima in cassa, assessori e consiglieri, poi con molta tranquillità dice o espone la sua idea dicendo io sono contro il quadrilatero, sono contro il ripristino di via Roma a doppio senso, ma viva Dio! Se si è aderenti a un programma, se si ottiene anche qualcosa come è avvenuto con qualche ex assessore o qualche ex partner della mia coalizione, poi naturalmente cacciato dall'amministrazione, perché? Perché il tradimento è una cosa importante. Noi dobbiamo sapere che la lealtà e lavorare per la città sono i fondamenti di qualsiasi amministratore. Non si parla mai male della nostra città. Si possono dare dei suggerimenti per migliorarla, ma mai parlare male della città. E vedo troppo spesso dei venduti a dei giornali o comunque a delle testate aquilane che spesso attraverso queste testate aquilane che chiaramente non vedono bene la nostra marsica, parlano male della città di Avezzano. Basta, i lettori vi puniranno come vi hanno puniti, essendo ormai dei punti dispersi nella nostra città. Il quadrilatero era una cavolata, è stato riconosciuto dall'80% dei cittadini. C'è ogni tanto qualcuno che può pensarla diversamente, viva Dio che la pensi, ci confrontiamo e spiegheremo le nostre ragioni. Via Roma abbiamo sperimentato con il numero delle macchine che passano, adesso lo riapriamo. Se va bene, come spero e sono sicuro che vada bene, dopo un primo passaggio di difficoltà, perché naturalmente la prima settimana, i primi dieci giorni, come è stato per via 20 Settembre, ci sarà un po' più di traffico, dopodiché vedrete, cari concittadini, che la cosa si spiarerà e andrà nella perfezione e alla vita e alla gioia sicuramente di quelle persone che risiedono là, dei residenti, dei cittadini, delle attività produttive che erano disperate e oggi possono avere un momento di sollievo. Ma voglio dire una cosa importante, abbiamo un comitato che ha raccolto tantissime firme, che ha chiesto a questo sindaco, a questa amministrazione, ripristino del doppio senso. Un buon sindaco verifica se non ci sono problemi, deve fare quello che vuole il popolo, altrimenti non può fare certamente il sindaco. Questo è il tema principale, quello del senso unico, il ritorno al doppio senso in Via Roma, però brevissimamente due altri argomenti. Nonostante tutte siete riusciti a organizzare anche l'estate avezzanese, nonostante difficoltà economiche? Sempre, l'estate avezzanese da tre anni va sempre più increscendo, quest'anno sarà ancora più bella e poi sarà appoggiata dalla settimana marsicana. Abbiamo riaperto per due mesi, anzi cittadini, andate a visitare il parco Arsa, è tornato nella disponibilità del comune, cioè vostro, di tutti i cittadini di Avezzano e della Marsia. Un parco adesso pulito, le siepi tagliate, dei fiori e dei percorsi bellissimi. Abbiamo fatto tre serate con della musica eccezionale, quindi la sera è ancora più bella. Vi invito a visitarlo sapendo che quel parco, chiuso per tanti, tanti anni, oggi è ritornato nella disponibilità dei cittadini di Avezzano. E lì abbiamo deciso di fare per il primo anno la settimana marsicana. Naturalmente negli anni futuri faremo sicuramente delle manifestazioni lì al parco, ma anche nelle altre parti della città, tra cui Piazza Risorgimento, che merita, come meritano i coloro che vivono intorno a Piazza Risorgimento, di godersi anche loro la parte della settimana marsicana. Non per alimentare polemiche, ma solo perché dall'Aquila continuano a macinare la difesa di Galzio per quanto riguarda la neurochirurgia. Insomma, stanno esagerando un po'. Ma gli Aquilani, almeno parte degli Aquilani, si sentono sempre chiusi e vogliono fare sempre questa contrapposizione con la Marsica. Galzio ha fatto un provvedimento ritenuto dagli stessi tecnici della sanità illegittimo. Doveva fare le richieste e fare i passaggi attraverso il direttore di ripartimento, il direttore sanitario, il direttore generale, che non l'ha fatto. Ha dimostrato l'arroganza che non sta bene mai a un medico. Un medico deve avere come principale attività quella di curare e di essere a disposizione dei malati. Tutte queste chiacchiere, l'intervento della figlia, degli anestesisti, di questo, di quel medico, penso che stiano esagerando. Galzio ha rimesso le dimissioni, ma ancora lavora, ancora fa l'attività professionale in proprio, ancora penso che possa essere d'aiuto alla sanità provinciale. Mi veramente sconvolge quando sento alcuni medici aquilani dire è un danno per la sanità aquilana. La sanità è di tutti i cittadini della provincia dell'Aquila, medici che sottoscrivete questi appelli. Sono tutti i medici della provincia dell'Aquila che devono impegnarsi per una sanità che va a favore dei cittadini, assolutamente di tutti i luoghi e di tutti i territori, da Castel di Sangra, Sulmona, Avezzano e l'Aquila. Non pensate sempre che esista solo l'Aquila e il resto del territorio è di secondo livello. Non è così. Ve lo abbiamo dimostrato sempre, con l'economia che è stata sempre autonoma, quella marzicana, abbiamo sempre dimostrato di avere una disponibilità e una generosità nei confronti degli aquilani, per cortesia. Cerchiamo un attimo di tenere il territorio delle aree interne unito e non continuate a cercare le divisioni. La marzica non è per le divisioni, è per l'unione di tutte le aree interne. Quindi smettetela di fare e di continuare a parlare di calzo e non calzo. Noi abbiamo chiesto solamente che il provvedimento è legittimo, che esiste neurochirurgia, seppur come unità operativa semplice, nel rete ospedaliera, fintando, non viene tolta, deve esistere. Abbiamo invitato il direttore generale ad assumere i medici se servono e per fare in modo che il professor Galzio possa stare tranquillo. Nessuna polemica. La polemica la sta facendo il professor Galzio, i suoi familiari e qualche medico aquilano che vuole a tutti i costi fare la rista con i marsicani. Ma noi non caderemo mai questi tranelli. Noi siamo per l'unione delle aree interne, siamo perché la sanità sia diretta ai cittadini, non ai medici, ai primari o a chiunque altro che sia. Bravo che sia. Deve essere sempre indirizzata ai cittadini, perché sono i cittadini che hanno bisogno di cure e sono i cittadini poi che pagano le tasse. Prosegue, secondo la tabella di marcia predisposta dall'amministrazione Santilli, le serie di interventi che partendo dalla periferia tendono alla riqualificazione dei quartieri della città di Celano. È stato reso operativo, infatti, il cantiere di via Tribuna, zona che necessitava da diversi anni di un'importante e incisiva opera di riqualificazione che si svilupperà da via Moricelle fino a via Stazione. Ma rende noto il sindaco, Settimio Santilli, che aggiunge I lavori previsti riguarderanno il rifacimento del manto stradale, la sistemazione dei marciapiedi, ma soprattutto l'ammodernamento di tutta la rete idrica foniaria, infrastrutture, queste, che devono avere la massima priorità per non avere problemi seri nel corso del tempo, come si sta verificando in altre diverse località italiane, proprio per la mancanza di un efficiente ed efficace piano di manutenzione delle medesime. Non solo, l'assessore delle politiche agricole, Domenico Fidanza, tiene un po' ad informare che è prossimo anche l'avvio del cantiere per la riqualificazione della circofucense, tenimento Celano, nel tratto compreso, tra strada 11 e strada 13, intervento atteso da troppo tempo dagli agricoltori marsicani. L'amministrazione Santilli, insomma, è decisamente al fianco delle imprese produttive marsicane, alle quali dichiara lo stesso assessore Fidanza, vanno garantite assolutamente tutte le condizioni ideali, ovvero tutti i servizi per poter svolgere al meglio la propria attività, sia essa agricola che di allevamento. Colpo vincente a Celano, grazie al Super Enalotto, nel concorso di ieri, infatti, sono stati vinti oltre 32 mila euro, grazie a 2,5 con due schedine, giochiate presso il bar Montagnani di Via Santa Cecilia. L'assessina esatta nel frattempo manca da più di un anno, con un ritardo record di 158 concorsi e il jackpot salito a 110,9 milioni. Quarto premio nella storia del gioco. In Abruzzo, riferisce a Gipro News, se manca dal 2012, quando il 30 agosto da Vezzano vennero centrati, 12,3 milioni di euro, mentre da inizio anno la vincita più alta è un 5 da 76 mila euro realizzato a Pescara lo scorso 9 febbraio. Diventa sempre più drammatica la situazione lavorativa all'Aquina con il call center Globe Network che annuncia imminenti licenziamenti dopo aver messo in ferie forzate tutti i lavoratori e con sindacati che non sono riusciti a trovare una soluzione adeguata vista anche la latitanza di vertici di H3G all'incontro di ieri a Roma al Ministero per lo Sviluppo Economico. Lo firma in una nota Enza Blundo, senatrice aquilana del Movimento 5 Stelle. Esprimo tutta la mia solidarietà, prosegue Blundo. Mi metto ulteriormente a disposizione dei lavoratori di Globe Network per essere d'aiuto in maniera concreta nella risoluzione della questione. A auspico che vertici di H3G ripensino alle modalità da seguire per la salvaguardia dei posti di lavoro di ben 234 persone che su questa occupazione hanno costruito le speranze per il loro futuro e quello dei loro figli. Mi sono già occupata di questa situazione in prima persona, affirma ancora l'esponente Grillina, trovando però una serie di omertosi muri di gomma da parte dell'azienda e dei sindacati e ne ho dedotto che in tutta questa storia sussistono intrecce di interessi economici e politici dei soliti pochi. La questione del lavoro è di interesse collettivo, almeno dovrebbe esserlo, e non deve essere circoscritta oltre che rimbalzata a favore o contro qualcuno. Situazioni simili si delineano in maniera preoccupante anche nei call center, cittadini di Trumps.com e dei care per i paventati ridimensionamenti e licenziamenti. Oggi ho mosso i primi passi dal centro visite della riserva naturale statale Monte Velino a Maddiano di Amarsi, il cammino della biodiversità. I camminatori hanno percorso i primi 10 chilometri attraverso la riserva naturale statale del Velino e il parco regionale del Sirente Velino in rapida salita fino al Monte di Sevice e poi in discesa fino al Borgo di Cartore. Il cammino raggiungerà venerdì 22 il Gran Sasso e infine la Magliella il giorno successivo dopo aver percorso 45 chilometri a piedi, superato 3.500 metri di dislivello ed attraversato tre stazioni di ricerca Long Term Ecological Research. Alla partenza l'iniziativa è stata illustrata dal vice questore giunto forestale Bruno Petriccione, coordinatore del cammino e referente delle stazioni di ricerca del Velino e del Gran Sasso e dai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Maddiano di Amarsi. I camminatori una quindicina provengono dall'Aquila, Santo Eufeimia, a Madiella, Roma e Maddiano di Amarsi. Durante il percorso l'ecologo Bruno Petriccione insieme all'entomologo Agostino Letardi ha illustrato ai partecipanti le caratteristiche biotiche e abiotiche che fanno della riserva naturale statale Monte Velino, un gioiello naturalistico dei nostri appennini abruzzesi, presenti anche di entusiasti membri del gruppo escursionisti del Velino. Giunti alla stazione della ricerca del Monte Velino i camminatori hanno partecipato ai rilievi sulla vegetazione e il microclima della stazione, posto in un ambiente molto severo. I detti rilevanti confermano la preoccupante tendenza in corso da ormai vent'anni all'adattamento dell'aridità delle comunità vegetali d'alta quota, nelle quali in corso un processo di graduale degenerazione con forte diminuzione delle rare specie adattate ai climi più freddi e l'invasione di quelle più termofile. Dopo il pernotamento a Cattore, i camminatori attraverseranno domani la riserva naturale regionale e montagne della Ducchessa fino all'Omonimo Lago per ridiscendere il campo Felice Luccoli dove saranno accolti dall'anteparco Sirente Velino e dalla locale amministrazione comunale. È indispensabile ridare attrattività alla città di Sulmona e nello specifico al suo centro storico. La nuova amministrazione dovrebbe avviare progetti di riqualificazione degli spazi del centro storico finalizzati a ridarne vigore e crearne attrattività sia economica che sociale provvedendo a realizzare nuove pavimentazioni, illuminazioni, arredi e percorsi storico-culturali da riconoscibili e segnalati. La Confesercenti e l'Officina dei Sapori Cescot hanno spesso segnalato la necessità di una concreta riqualificazione urbanistica del cuore cittadino con particolare riguardo agli accessi delle porte storiche attraverso un progetto mirato alla dilatazione del concetto di centralità urbana. In sostanza, l'intervento proposto riguarda l'intero sistema di attività, funzioni e servizi che caratterizzano la città. L'obiettivo è quello di individuare e sviluppare una serie di interventi finalizzati al miglioramento della performance commerciale, turistica e dei servizi della città e in particolare del suo centro storico. Le modalità di approccio sono quelle legate al fare sistema tra i diversi soggetti. La Confesercenti e l'Officina dei Sapori Cescot reputano indispensabile come primo atto che il Comune proceda ad un'indagine esplorativa al fine di ricevere rilievi e proposte da parte di chi vive il territorio urbano. Successivamente, l'amministrazione dovrebbe avviare le procedure per la redazione del piano di marketing urbano capace di creare non che incrementare le potenzialità e la performance commerciale, culturale e sociale del centro urbano di Sulmona, non che il grado attrattività. L'autorità dei Trasporti ha deciso di erogare tre sanzioni per un totale di 13.000 euro nei confronti di Trenitalia per violazione del regolamento sui diritti e di obblighi dei passeggeri. Le sanzioni riguardano la violazione segnalata da singoli passeggeri ed è un comitato di pendolari del diritto dei diabbonati a ricevere dall'impresa ferroviaria un indennezzo adeguato a fronte di ripetute ritardi o soppressioni del servizio. Le situazioni esaminate dal Consiglio delle Autorità, si legge in una nota, riguardavano viaggiatori, tra cui numerosi pendolari, sulle tratte ferroviarie ricomprese nei contratti di servizio stipulati da Trenitalia con le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna e Molise, per le quali sostessano obblighi di servizio pubblico. La prima volta di 4.000 euro riguarda la linea Cassino-Avezzano, la seconda da 5.000 euro, il percorso ferroviario Imola-Bologna, la terza anch'essa da 4.000 euro, è relativa ad un reclamo del 10 novembre 2015 concernente al percorso ferroviario Isernia-Campo Basso. Le organizzazioni sindacali Fai, Cisle, Flai, CGL e Willa Will hanno proclamato a partire da domani 21 luglio uno sciopero ad oltranza dei 53 dipendenti dell'Associazione regionale Allievatori, che sede all'Aquila, le tre sezioni operative nel capoluogo abruzzese a Chieti-Pescara e a Teramo. L'ascensione del lavoro con la conseguente sospensione di ogni servizio erogato all'impresa zootecnica abruzzesi si rende necessaria in seguito alla situazione ormai insostenibile che si è venuta a creare, spiega Felice Antonio Maurizzi, segretario regionale Cisle. Le maestranze devono percepire ben 35 stipendi e ritrati, fatta eccezione per qualche retribuzione esporatica e a Singhiozzo, a cui si aggiungono rimborsi delle spese sostenute per le attività rese alle aziende zootecniche. Una situazione drammatica che ci costringe in calza Maurizzi ad adottare una forma di protesta forte, fino a quando non avremo risposta esaustiva da parte dell'Associazione regionale Elevatori per quanto concerne il pagamento delle spettanze ritrate della regione Abruzzo e l'Associazione Elevatori nazionale e regionale chiamate a fornire risposte chiare e inequivocabili sul futuro della struttura e sulla sua sostenibilità. Questa era l'ultima notizia. Prima di salutino come sempre, vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenaduotv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Dunque grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.